la mastoplastica additiva è l'intervento principe intervento che secondo me è quello che mi è più richiesto e che va più di moda ultimamente la mastoplastica additiva è quel classico intervento di chirurgia estetica che tende ad aumentare il volume del seno quindi tutte le indicazioni che sappiamo bene eccetera tende solo ad aumentare il volume del seno sembra tecnicamente semplice ma è molto variegato come intervento soprattutto a tante tecniche che bisogna sempre adattare sulla torace della paziente è un intervento che noi regolarmente effettuiamo in anestesia locale assistita o in anestesia generale in altri casi ma sempre comunque in dei sargeri quindi la mattina si viene di giugno con gli esami fatti si torna a casa nel pomeriggio con un reggiseno classico che si chiama proprio giseno da aumento di seno che va tenuto 3 4 settimane che serve a bloccare quello che ha fatto il chirurgo i risultati a mio giudizio sono eccellenti